Il Vittoria in crisi. Una crisi societaria all'orizzonte divenuta ormai attuale con le divergenze insanabili tra il gruppo che fa capo a Francesco Di Paolo e dal bomber del Napoli Peppe Mascara e l'attuale presidente Salvatore Barravecchia. Barravecchia ha fatto sapere di aver rassegnato le dimissioni 20 giorni fa, ma nell'incontro-scontro di ieri con Di Paolo e Mascara l'accordo non è stato raggiunto. Di Paolo e Mascara sono disposti a prendere in mano le redini della società e ad individuare un nuovo presidente. Poi si faranno i conti e si salderanno le rispettive aspettanze. Barravecchia afferma di vantare un credito di 61 mila euro, ma anche su questo non c'è accordo. Sulle divergenze economiche, oltre che sulla gestione societaria e sulle prospettive future, si è rotto il giocattolo che si era cercato di costruire in estate. Ora le tensioni restano a mille e raggiungono anche i giocatori che si preparano al difficile derby contro il Ragusa, che potrebbe risultare decisivo per le sorti della stagione. Ma in queste condizioni è veramente difficile poter affrontare la gara. Anche nella tifoseria si attende con ansia l'evoluzione degli eventi. Di certo, molte cose matureranno nelle prossime ore e si deciderà quali saranno le sorti del calcio a vittoria. Barravecchia dice di non voler restare ai vertici della società. Di Paolo e Mascara invece resterebbero solo se la situazione societaria, sia gestionale che contabile, sarà chiarita.